Cielo coperto e una leggera piovigine inizia a cadere sullo stretto. È l'anticipo dell'ondata di freddo che ci verrà a interessare in questo fine settimana. Quello in arrivo non sarà un freddo particolarmente pungente come quello che arriva dalle pianure della Russia, dell'est Europa, ma parliamo di aria fredda che viene dalle alte latitudini del mar di Groenlandia, dal mar di Norvegia, trascendendo verso l'Europa, attraverso la penisola scandinava, aggirerà ad est le Alpi e raggiungerà i Balcani. Qui si continentalizzerà un po' e raggiungerà le nostre regioni meridionali nel corso del fine settimana, determinando un brusco abbassamento delle temperature. Difatti la giornata di sabato sarà caratterizzata da cieli che spazieranno dal poco nuvoloso all'irregolarmente nuvoloso. Una maggiore nuvolosità sarà presente lungo il versante settentrionale Denebrodi, lungo la costa tirrenica e sull'area dello stretto, dove al mattino ci potrà essere ancora la possibilità di qualche debole fenomeno dell'ordine di qualche locale piovigine, debole pioggia sparsa. Poi la tendenza è verso un successivo miglioramento, ma affluirà aria un po' più fredda che genererà un calo delle temperature. Difatti domani le massime non dovrebbero superare i 12-13 gradi a livello del mare, mentre le temperature minime torneranno a scivolare al di sotto dei 10 gradi. I venti soffieranno debbo o moderati dai quadranti settentrionali, rendendo i mari poco mossi localmente mosso solo il tirreno. La giornata di domenica invece vedrà l'afflusso di ulteriore aria fredda. Il tempo si manterrà leggermente variabile con cieli che spazieranno dal poco nuvoloso all'irregolarmente nuvoloso. Nel corso della serata si assisterà a un aumento della nuvolosità proprio per l'arrivo di un altro impulso di aria fredda che ci interesserà nelle giornate di lunedì e martedì, che saranno delle giornate decisamente fredde, con le massime che non dovrebbero superare gli 11-12 gradi, mentre le temperature minime si potranno scendere anche al di sotto degli 8-7 gradi a livello del mare. Qualche leggera spolverata di neve si potrà vedere sui nebbi e sulle cime dei peloritani durante la notte fra domenica e lunedì. Però parliamo sempre di fenomeni molto deboli, fenomeni localizzati. Difatti quello in arrivo sarà un freddo prevalentemente secco che non apporterà fenomeni degni di nota, fenomeni significativi.